Il Sassuolo vola al primo posto in attesa del risultato di stasera fra Milan e Napoli. Il Sassuolo è a 18 punti, vola in prima posizione e vince 2-0 contro il Verona. Ma la partita ha un risultato non bugiardo di più. Perché primo tempo, primo tiro del Sassuolo, Bugà fa un gol devastante. Appena rientrato Bugà ha fatto un gol mostruoso e poi anche Berardi ha fatto un bel gol. Però due pali nel primo tempo del Verona, uno nel secondo, il miracolo di consigli sul colpo di testa di Salcedo e il Verona che non riesce a vincere. Sassuolo primo, ormai è una realtà del calcio italiano, questo Sassuolo di De Serbi che vola ancora. Mi dispiace per il Verona ma il Sassuolo ragazzi non c'è nulla da dire, sono troppo forti. Sono forti, non c'è nulla da dire. Poi Verona poteva fare un po' di più però è stato molto 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 sfortunato. Sassuolo che invece con quattro tiri se l'è cavata io direi. Poi un mostruoso Chiriches, Berardi, Bugà, che partita di tutti. Locatali sotto tono e poi nel Verona il solito Zaccani ragazzi. Il solito Zaccani ormai fa delle prestazioni mostruose. E poi il solito consigli che con un unico intervento salva la sua squadra e il Sassuolo va in prima posizione a 18 punti. In caso di stasera, in caso di pareggio il Milan andrebbe a 18, aggancerebbe il Sassuolo, Napoli andrebbe a 15. Quindi è una classifica devastante questa, devastante. Però sulla partita ve l'ho detto, Sassuolo ha giocato bene, Verona ha giocato molto meglio. Poteva fare di più il Verona però è stato molto sfortunato. Noi venivamo nel post partita dopo del Milan ciotto.